Salvatore Trinchillo, imprenditore, si parla di questa struttura, l'Icola, la casina di caccia borbonica che adesso è affidata a voi, l'avete in gestione voi dopo aver vinto un bando ora quali sono i progetti o come si è riuscita ad ottenerla? Noi abbiamo partecipato con piacere a questo bando con la nostra società immobiliare perché siamo imprenditori del posto storici, perché crediamo nel turismo, nel sviluppo turistico e culturale della zona e che è la nostra principale mission e quando abbiamo saputo che c'era un bando sulla casina di caccia che riteniamo un sito assolutamente sottovalutato e lo dicono i fatti, sono 30 anni che è abbandonato oppure è stato destinato a attività non tipicamente turistiche dalla regione abbiamo ritenuto importante partecipare e adesso siamo entusiasti di aver vinto il bando e adesso ovviamente siamo consapevoli che ci toccherà un investimento molto grande abbiamo attivato già i fondi di finanziamento possibili e tra l'altro a breve faremo una manifestazione di interesse per coinvolgere altri imprenditori che ci vogliono affiancare 2 milioni e mezzo è la cifra minima che deve investire il vincitore del bando noi abbiamo fatto già un primo investimento sulla progettazione, sulla pianificazione adesso da questo momento in poi dovendo ristrutturare, ammodernare e riqualificare tutto il sito ovviamente affiancato alla sovrintendenza perché sarà un ammodernamento solo tecnologico ma non strutturale perché estetico, perché il sito è bello di suo e non altereremo nulla di come è stato immaginato e architettato tanti anni fa nel 1800 quindi c'è un grande investimento, ripeto però abbiamo a parte le nostre capacità ci sono finanziamenti e ripeto siccome nasceranno più attività tutte quante nel mondo culturale e turistico a breve noi presenteremo alla città e non solo il nostro progetto e daremo spazio agli imprenditori che vorranno affiancarci in alcuni campi specifici c'è già un'idea di quello che è il progetto? si può accennare anche con una piccola anteprima? il progetto è pubblico perché avendo partecipato a un bando il bando è pubblico quindi abbiamo depositato un progetto nel quale ci siamo impegnati a fare una struttura ricettiva che saranno o dei residenze o un albergo una struttura per ristorazione legata anche al mondo dei convegni e al mondo del wedding un sito museale legato alla bonifica perché ricordo che questo sito oltre ad avere un interesse borbonico perché era il sito di caccia dei borboni ha una chiesetta all'interno dove la regina quando si muoveva lungo la campagna si fermava a sentire messa ma in ogni caso è anche un'importanza storica perché sono sedi degli uffici della bonifica che ha creato l'icola che era una palude prima e quindi c'è tutta una storia del prima e dopo guerra mondiale prima guerra mondiale pre e post prima guerra mondiale che riguarda tutta la bonifica di ricola che tra l'altro potrebbe potrà essere raccontata ancora dai nonni di ricola che ricordano quella storia quindi faremo anche un discorso di identità grazie